Nicola Sbaldini, 22 anni, videomaker e fotografo diplomato all'Iceo Artistico di Aghezzo, è il vincitore del concorso I Will, promosso dalla Fondazione Aghezzo Wave Italia, grazie al contributo della Regione Toscana Giovani Sì, insieme al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con la collaborazione del CESVOT. Con il Video Wake Up, il giovane videomaker aggettino, si è guadagnato il primo premio di 3.000 euro che gli organizzatori del concorso hanno messo in palio per il miglior videospot dedicato al volontariato e alla solidarietà realizzato da giovani artisti toscani Under 35 a decretare la vittoria di Nicola Sbaldini, l'efficacia del video, l'immediatezza del messaggio e in 30 secondi il racconto di un giovane, l'attore Marco Bennati, che compie nell'arco di una giornata una serie di piccole azioni di responsabilità e solidarietà che ne cambiano lo stile di vita e lo rendono un ragazzo più soddisfatto e felice. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!